Direi che possiamo iniziare questo incontro, questa Gorà, seguendo la formula che è prevista per la Gorà, si tratta di un incontro fra due realtà probabilmente diverse ma non troppo, sviluppatori di software per la statistica, quindi sia interni al nostro istituto, sia esterni, probabilmente c'è un minimo di squilibrio tra le componenti, per curiosità alzi la mano chi non è dell'istituto nazionale di statistica. Questa Gorà è coordinata sia da me, Giulio Barcaroli, io opero all'interno del servizio metodologie e strumenti e supporto metodologico per i processi di produzione dell'informazione e statistica e da Marco Scarnò che è uno statistico informatico del Caspur, con Marco abbiamo un rapporto ormai da diversi anni sul fronte dello sviluppo di software sia per la produzione sia per l'analisi dei dati, a questo punto entro nel vivo dell'incontro, noi abbiamo inteso dare una prima classificazione di quello di cui stiamo parlando, del software appunto per la statistica, consideriamo questa catena che dalla raccolta dei dati procede per la produzione e la diffusione, la messa a disposizione delle informazioni statistiche che a questo punto possono essere reperite, appunto in quanto messe a disposizione da utilizzatori diciamo esterni evidentemente al mondo della statistica ufficiale, a quale fine? Per analizzare queste informazioni e soprattutto per estrarre conoscenza sui fenomeni di interesse, quindi diciamo con Marco ci siamo un po' suddivisi nei due interventi introduttivi l'ambito di cui vogliamo discutere, io mi occuperò in questa spero breve presentazione della prima categoria di software, quella che viene appunto utilizzata dai produttori, da quelli che raccolgono dati e poi alla fine mettono a disposizione informazioni statistiche, Marco cercherà di presentare il punto di vista di chi invece vuole analizzare dati e informazioni, ripeto per produrre conoscenza. vogliamo ragionare in termini di quali innovazioni abbiamo necessità relativamente al software, io al momento parlo, ripeto, del mondo della produzione, rispetto a questo mondo vorrei dire che l'ambiente di cui parliamo ha determinate peculiarità rispetto al mondo classico aziendale, gestionale che caratterizza imprese private e non, sia relativamente ai dati trattati sia relativamente alla tipologia di elaborazioni che vengono applicate ai dati. Ma per quanto riguarda i dati, chi è un po' dentro al dibattito che c'è stato e che c'è ancora, c'è una peculiarità dei dati statistici legata essenzialmente al tipo di organizzazione dei dati che normalmente viene data, pensiamo classicamente al mondo gestionale, il paradigma di organizzazione relazionale dei dati è normalmente accettato, quindi c'è un processo di normalizzazione dei dati che ne assicura poi alla fine l'integrità nel mondo transazionale, terza, quarta forma normale, ecco da questo punto di vista gli statistici in qualche modo hanno esigenze diverse, il dato statistico una volta raccolto è stabile, non è soggetto a aggiornamenti, modificazioni di alcun tipo, il problema è quello di legarlo fin da subito per ragioni varie a quello che serve ai fini del trattamento allo statistico, quindi un'organizzazione se vogliamo piatta del tipo matriciale, unità osservate, variabili, informazioni raccolte per ogni unità. quindi ecco non tanto relazioni quanto tabelle e matrici di questo tipo, ma ancora i metadati chiaramente anche nel mondo gestionale transazionale c'è necessità di metadati, c'è da dire che la complessità probabilmente la complessità dei metadati che devono accompagnare i dati osservati, i dati raccolti, probabilmente è di un ordine di grandezza superiore rispetto a quelli che invece sono presenti nel mondo gestionale, ovviamente non sempre, vado in modo molto schematico, si tratta semplicemente di capire la prevalenza in un mondo rispetto all'altro. Le elaborazioni, per quanto riguarda le elaborazioni anche qui siamo in un mondo scientifico, la complessità, l'intensità computazionale scientifica che normalmente interessa i processi che vengono applicati ai dati sia nel momento dell'arrivazione sia soprattutto una volta rilevati pensiamo alle necessità legate alla validazione dei dati, per esempio a fasi come quelle che riguardano la localizzazione degli errori e al tentativo di ripristinare l'informazione perduta sia in termini di correzione degli errori che di imputazioni di valori mancanti. Ripeto, sono complessità computazionali, algoritmi che in qualche modo devono rispondere alle esigenze di qualità che normalmente non sono presenti nel mondo esterno a quello della statistica ufficiale e non. Altri esempi potrebbero essere quelli relativi al calcolo delle stime campionarie per indagini di un certo tipo complesse, quali quelle che vengono portate avanti nel mondo della statistica ufficiale, al calcolo della varianza campionaria e quant'altro, la tutela della riservatezza, non mi soffermo più di tanto ma il messaggio che voglio lanciare è che ripeto, sia per quanto riguarda i dati sia per quanto riguarda le elaborazioni, il software necessario è di tipo diverso da quello che è presente nell'azienda, banche, assicurazioni e quant'altro e quindi necessita di che cosa? Per quanto riguarda il mondo della produzione e poi parleremo anche di quello dell'analisi, di innovazioni legate a queste peculiarità. C'è uno sforzo comune a livello mondiale direi, soprattutto negli ultimi anni, che è quello di arrivare a che cosa? A soluzioni standard per processi che sono comuni a una pluralità di enti. pensiamo, ripeto, al mondo della statistica ufficiale, agli istituti di statistica che operano in ogni paese, c'è un grado di variabilità tra le indagini che vengono condotte da questi istituti che è di base molto basso, nel senso che gli obiettivi conoscitivi sono sempre gli stessi o si differenziano molto poco da paese a paese, almeno possiamo distinguere per fasce di paesi, ma la tendenza è veramente alla omogenizzazione degli obiettivi e conseguentemente lo sforzo che viene fatto è a obiettivi comuni occorre dare risposte comuni, perché i processi di produzione che tendono a dare a raggiungere quegli obiettivi conoscitivi sono concettualmente gli stessi, quindi necessitano di risposte comuni omogenee, necessitano cioè di standard sia metodologici ma anche di standard di software che permettono di tradurre in pratica quelle scelte metodologiche che assicurano il massimo livello di qualità e in quanto quel livello di qualità dovrebbe essere patrimonio comune di tutto il mondo che produce informazioni in statistiche, anche gli strumenti devono essere in qualche modo pensati con caratteristiche e modalità di funzionamento e soprattutto tecniche incorporate al loro interno comuni. Se questo è vero, un ulteriore elemento è quello di, poi spiegherò perché, mettere in condizione responsabile dell'indagine di poter utilizzare software in modo diretto, in modo immediato, minimizzando il ricorso a figure specialistiche, professionali, informatiche perché? Perché in primo luogo è lui che conosce meglio di chiunque altro gli obiettivi della propria indagine o del proprio sistema informativo che va a implementare e meglio di chiunque altro conosce le regole, i vincoli, i metodi, le tecniche che devono essere utilizzati per raggiungere quell'obiettivo. L'obiettivo quindi che ci poniamo e l'innovazione fondamentale che vogliamo raggiungere è quello di fare in modo che sia lo statistico a raccogliere quello che è messo in condivisione e vedremo come nel suo mondo e calarlo nella propria particolare realtà produttiva, ripeto in modo semplice, in quanto questo software deve essere disegnato, progettato e implementato proprio perché venga utilizzato direttamente dall'utente finale e quindi per esempio sia portabile su qualsiasi piattaforma, sia ben documentato perché deve essere chiaro il modo di utilizzo, ripeto l'ho già detto prima non ci debba essere ricorso la necessità di ricorrere a informatici professionali oppure questa necessità deve essere minimizzata e anche deve essere in grado questo software il più possibile di guidare l'utilizzatore verso risultati corretti perché dobbiamo scontare il fatto che magari lo statistico appunto non avendo a priori conoscenze informatiche deve essere guidato nell'applicazione di questi strumenti informatici. Quindi due domande che volevo porre appunto alla base della discussione per quanto riguarda questa fascia di software, pensiamo di trovare soluzioni di questo tipo per esempio tra quelle esistenti sul mercato? C'è un forte dibattito in corso, invito chiunque a dire la sua su questo argomento, chi mi conosce sa che ritengo che questo non sia possibile quindi per quello che mi riguarda do già una risposta in questo senso e la domanda successiva che ovviamente presuppone in qualche modo una risposta negativa alla precedente o comunque anche parzialmente negativa alla precedente è se queste soluzioni non sono esistenti sul mercato in quanto, qua lo vedremo, potremo anche discuterne, il mercato si orienta verso domande più corpose di quelle costituite da chi produce informazioni statistiche, potremmo fare esempi SAS, SPSS, strumenti nati originariamente per coprire le esigenze del mondo della statistica poi hanno trovato più conveniente orientarsi verso altri segmenti di mercato molto più cospicui e che hanno orientato quindi lo sviluppo successivo di questi strumenti anziché verso il mondo della statistica classica per esempio verso la business intelligence e altre fasce elaborative che in qualche modo si allontanano da quella che invece secondo me serve a un istituto che produce informazioni statistiche in generale ripeto a chi ha un certo tipo di esigenza legata per esempio al tipico processo di un'indagine statistica. Quindi se non possiamo fare riferimento almeno solo al mercato a chi dobbiamo fare riferimento perché tutto sommato lo sforzo richiesto dall'obiettivo che ho detto prima è estremamente oneroso. Una risposta possibile è nella auto-organizzazione di coloro che saranno i diretti utilizzatori di questo software. Dalla comunità degli statistici sicuramente di quella degli istituti nazionali di statistica, di organizzazioni internazionali di statistica OX, Nazioni Unite e quant'altro, anche ovviamente il mondo accademico con cui ovviamente i rapporti di collaborazione a questo punto di vista sono elevatissimi. Ecco questa comunità è in grado e l'ha dimostrato, darò adesso degli esempi in questo senso, è in grado di auto-organizzarsi, di sviluppare in modo cooperativo, di mettere a disposizione di tutta la comunità dei potenziali utenti i prodotti dello sviluppo senza barriere all'utilizzo di questi prodotti di modo che c'è un circolo virtuoso che sostanzialmente assicura che dalla ricerca nel campo delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti si passi senza intermediari a strumenti immediatamente spendibili e che in quanto condivisi, messi subito in condivisione, possono essere immediatamente reperiti, sperimentati e in caso utilizzati, valutati e quindi con un processo di condivisione e anche di validazione di massa, c'è una selezione naturale di questi strumenti che diventano patrimonio comune del mondo della statistica, ufficiale e non, perché non sto ragionando solamente in termini di... Qualche esempio, qui riporto tre esempi, questo è il primo, le Nazioni Unite, questo è un sito dell'UNESCE, potete trovare questo ospitato dalle Nazioni Unite, dalla Commissione Economica Europea delle Nazioni Unite, uno sforzo fatto tra l'altro con un progetto finanziato europeo è stato quello di raccogliere informazione su tutti i software di tipo generalizzato utilizzati da diversi studi nazionali di statistica. Questi software sono stati organizzati secondo le varie fasi del processo di produzione dell'informazione statistica attraverso un modello di rappresentazione di queste fasi che ormai di dominio comune e vengono messe a disposizione le informazioni per capire come questi software funzionano e possono essere utilizzati. Non siamo ancora alla fase della possibilità di reperire immediatamente questi software, non c'è la possibilità di effettuare il download, ma è comunque un primo passo, una prima ricognizione che è stata effettuata per avere una panoramica, un quadro d'insieme di questo software. Un passo in avanti è questo, Eurostat ha costruito l'open source repository di cui una parte importante è costituita dagli strumenti generalizzati per i processi di produzione dell'informazione statistica. Io qui ho riportato, noi come istituto abbiamo inserito all'interno di questo repository un software generalizzato che abbiamo fatto autonomamente, è un software per il disegno dei campioni, mouse R, sviluppato con R. Chiunque può accedere a questo sito, reperire informazioni su questo software, è disponibile anche il manuale metodologico e il manuale utente, lo può scaricare, ci sono dati di prova, lo può utilizzare, sperimentare e valutare se effettivamente può essere utile per le proprie esigenze, quindi senza alcuna barriera all'ingresso. Chi conosce il sito di R, CRAN, sa che R è un sistema ormai dilagante nella comunità statistica ufficiale, nato in ambiente accademico ma ormai sempre di maggiore utilizzo, accanto al motore centrale che è dato dal sistema e dal linguaggio R, la comunità degli statistici che sono anche informatici ha sviluppato 2500 librerie, pacchetti diversi, ecco è una novità degli ultimi mesi il fatto che c'è una task view di questi pacchetti che riporta la disponibilità, se leggete lì, task view official statistics and survey methodology, quindi tutti i pacchetti che possono essere utilizzati nel nostro ambiente, quindi per disegnare il campione, per effettuare procedure di validazione dei dati, per imputare i dati, per calibrare osservazioni campionarie, per valutarne gli errori campionari e quant'altro, anche per la tutela della riservatezza. Tutto questo è avvenuto spontaneamente, ripeto, attraverso un processo di auto-organizzazione, che secondo me è uno degli elementi più importanti e più positivi che hanno caratterizzato la storia dell'evoluzione del software statistico negli ultimi dieci anni. A questo punto passerei rapidamente, perché sono andato molto al di là di quello che pensavo, la parola a Marco. Allora, ringrazio intanto Giulio Barcaroli per aver pensato a me, ringrazio voi per essere qui presenti, ringrazio Giulio che ha fatto di me, diciamo, anche se non so se si possa dire in questi ultimi tempi, l'utilizzatore finale di un software statistico, devo dire che in realtà nella mia storia io non sono solo, diciamo, l'utente, ma sono stato anche uno, e sono tuttora uno sviluppatore di software statistico. L'idea di questo, diciamo, consesso di persone è quella immagino di, comunque, scambiare delle idee e così via, come in maniera informale, come Giulio io ho preparato qualche slide nell'idea che poi un po' la mia storia, un po' le cose che ho pensato per questo incontro, possono diventare delle domande alle quali magari insieme poi possiamo rispondere. Allora, sulla mia storia di sviluppatore, nel 2002, sono stato così, sono entrato a far parte di un gruppo incaricato dall'UNESCO, un gruppo di controllo sviluppo di un software statistico, che all'epoca era distribuito gratuitamente, non era open source, questo software distribuito dal 2001, in realtà derivava da un altro software statistico sviluppato negli anni 80 dall'Università del Michigan. Appena entrato, nel 2002, l'innovazione, all'epoca del software statistico, e questa, diciamo, questa gorà ha come oggetto l'innovazione nel software statistico, fu individuata nel software open source. Perché questo? Il motivo principale è che un software open source ha costi molto ridotti di sviluppo. In realtà il progetto andò a finire male, si bloccò, il motivo principale dell'interruzione del progetto fu che l'UNESCO, come organizzazione internazionale, diffonde la cultura, ma non è uno sviluppatore di software. La nota è che il direttore del settore di comunicazione e informazione disse questa cosa subito dopo aver fatto l'accordo con la Microsoft per la distribuzione di Windows 95 e 98 gratuitamente ai paesi in via di sviluppo. In realtà da noi c'era già XP. Progetto naufragato da cui in realtà è derivato questo software statistico Adamsoft che appunto noi come Caspur abbiamo messo in distribuzione. Le considerazioni però, almeno mie, su quell'esperienza è che il software statistico funziona, è una buona idea, è facile da sviluppo. Si può ottenere un risultato carino soprattutto quando poi si interagisce con degli utenti come può essere per il nostro caso stato con l'istat, però in realtà forse quello che sembra in questi ultimi tempi più innovativo non è tanto un software open source ma è un motore open source che consenta facilmente agli utenti di aggiungere dei pacchetti un po' come R, un po' come in realtà sono i linguaggi di programmazione in generale quindi Fortran, C, Java e così via. Forse la considerazione è che per l'utente statistico è più facile accedere a dei linguaggi di programmazione funzionali come poi consente R che non a linguaggi di programmazione di basso livello come può essere C, Fortran o Java. Questo riporta una mia esperienza che poi recupero alla fine in realtà lo statistico è qua passo non più da utilizzatore finale qui non sono più sviluppatore ma sono utente gli utenti statistici hanno spesso delle esigenze molto specifiche una cosa che a me è capitata poco tempo fa è l'esigenza di fare per dei biologi un grafico che facesse vedere l'unione dei geni e contemporaneamente per ogni gene mi desse il livello di espressione o repressione. Questa è una cosa tipica dei biologi per noi statistici molto meno il mio problema era trovare un pacchetto che lo facesse nel mio caso, ricerca su Google trovato il pacchetto specifico per i biologi scaricato, applicato ai dati e fatto il grafico. Il problema in realtà che a me è sorto è in quale modo interagire con questo software l'elemento di complessità che ho individuato è stato come passare l'informazione a questo software specializzato partendo dalla mia tabella dati organizzata in un'ottica statistica qui quindi mi ricollego poi a quanto detto da Giulio uno dei problemi che in realtà si ha nel software e che ne esistono tanti e sono molto specializzati ognuno però di questi si basa su un'informazione di ingresso rappresentata in maniera diversa ovviamente da un lato dello sviluppatore qui torno per un attimo è anche utile nella misura in cui si pensi a quale possa essere il software innovativo a quali siano i risultati che gli utenti si aspettano ora sempre preparando questa presentazione nell'ottica dell'innovazione ho trovato un articolo del 1985 ho scoperto che il 1985 era due anni prima che fosse inviata la prima email in cui un personaggio, l'autore, questo Han proponeva una cosa in realtà abbastanza carina che era quella di dire ci sono pochi statistici ma in realtà la conoscenza della statistica è molto importante in vari campi siccome i computer si stanno diffondendo perché non mettiamo la conoscenza statistica all'interno di un computer e quindi creiamo un sistema esperto e un tipo nell'81 citato da quest'articolo 81 vuol dire sei anni prima della prima email osservava che data la diffusione di macchine di elaborazione a basso costo di tanti software il pericolo, e questo era l'81 ricordo è che i risultati dell'analisi dei dati poteva in maniera molto facile diventare un macello precipitare, diceva, in date analisi non corrette, non uniformi e non guidate allora in questo senso mi è venuto in mente Nilvan Eck che è quel tipo in alto che è stato il creatore di questo software dell'UNESCO da cui poi ha preso origine il software dell'UNESCO da cui poi ha preso origine in qualche modo ad Amsoft che nell'84 aveva pensato e realizzato quando poi è arrivato a internet un, alla fine, per come lo vediamo adesso noi, un sito web che pone una serie di domande e a secondo della risposta guida l'utente a scegliere, a individuare qual è il metodo migliore rispetto alle sue esigenze in questo caso quindi la realizzazione del sistema esperto quindi mi chiedo forse se in realtà la vera innovazione non possa essere questa che poi era stata pensata 30 anni fa quasi e quindi diciamo qua una serie di questioni legate al almeno al mio punto di vista di come potrebbe essere l'innovazione che ovviamente deve considerare però le varie tipologie di utenti barra referenti del software e quindi ovviamente l'utente specializzato ha bisogno di strumenti semplici il diffusore di informazione ha bisogno di strumenti che garantiscano all'utente dell'informazione diffusa il fatto di poterla analizzare in maniera corretta cioè di non trovare delle variabili che non hanno senso poi lo sviluppatore che ha bisogno di alcuni diciamo così dettagli tecnici su come sviluppare il ricercatore che ha bisogno di un ambiente diciamo un R l'utente non statistico che in qualche modo è curioso e così via e concludo sperando di stimolare poi con tutte queste domande che in realtà sono apparse sulla sinistra che mi sono fatto io sul come deve essere il software innovativo del futuro pensando al fatto che poi in realtà è stato già detto ieri dal dal presidente dell'istat che in realtà qualunque cosa sia nel futuro deve tenere conto della tecnologia attuale deve tenere conto che ci sono c'è l'iPad ci sono i telefoni tutte queste interfacce sposta vai fai metti allora questo mi sono così immaginato io come potrebbe essere il futuro di un software statistico un qualcosa dove io ho i dati nel mio diciamo così tablet vado su internet o in qualche posto scarico la procedura che mi serve la applico ai dati che ho e ottengo il risultato ora piccola nota questa cosa che io mi sono immaginato in realtà è esattamente quello che io ho fatto perché sono andato su google ho scaricato il prodotto e ho fatto poi l'analisi che mi serviva forse la differenza quello che raccontava prima Giulio è che il vero problema è costruire dei posti strutturati che garantiscono l'accesso ai pacchetti in qualche modo che poi consentono rapidamente questa cosa qui cioè lo scaricamento della pp statistica che io ho pensato si potrebbe chiamare istat però sembra troppo istat per cui ho pensato che potrebbe esserci non so lo stat store dove uno va e scarica i componenti principali e così via bene grazie e spero di non aver rubato tempo a voi io direi quindi di dare il via libera a interventi che possono fare riferimento alle presentazioni che abbiamo fatto io e Marco che abbiamo finito adesso di fare io e Marco oppure anche aprire nuovi fronti nuovi elementi da mettere in discussione e in valutazione io volevo fare un intervento che riguarda un po' entrambe le presentazioni in particolare l'ultima parte della presentazione di Giulio di Giulio Barcaroli relativa alla standardizzazione dei processi statistici e quest'ultima cosa che ha anche detto Marco Scarnò con riferimento alla possibilità di avere un posto dove sono disponibili dei tool da poter assemblare in maniera semplice per raggiungere un determinato risultato e attualmente l'Istat è coinvolta in un progetto di ricerca finanziato da Eurostat che è il prosieguo di un progetto che si è concluso a dicembre scorso e riparte adesso a gennaio e il nome di questo progetto è Common Reference Environment l'obiettivo di questo progetto è esattamente quello di definire un ambiente di riferimento per l'esecuzione automatica dei processi statistici quindi va esattamente nella direzione sia di standardizzazione sia di innalzare il livello di trasparenza rispetto all'utente statistico per l'esecuzione dei processi perché l'idea è che l'utente statistico possa disegnare un processo e assemblare dei componenti software che sono già stati sviluppati di modo tale che questo processo possa essere automaticamente gestito questi componenti software possono essere resi disponibili in una in un repository in un unico punto accessibile all'interno dell'ambiente e messi insieme secondo un meccanismo tipo drag and drop che ha un po' diciamo esemplificato Marco nella parte finale del suo intervento quindi sicuramente c'è una coscienza della necessità di avere intanto degli strumenti facilmente accessibili e facilmente utilizzabili da un lato e dall'altro riuscire in qualche modo a mettere a fattor comune il fatto che le esigenze da parte dei vari istituti di statistica sono le stesse e quindi un meccanismo di standardizzazione può semplificare l'esecuzione dei processi stessi e il riuso delle soluzioni già disponibili questa diciamo è un po' nella direzione degli interventi fatti invece volevo insomma una precisazione o comunque la mia idea rispetto al al discorso della peculiarità dei dati statistici Giulio l'ha un po' presentata dicendo i dati statistici hanno delle caratteristiche proprie per cui necessitano di essere trattati in maniera specifica ora questo è vero ma non è vero sempre nel senso che io ritengo che tante che molte fasi del processo statistico possano essere supportate dallo stato dell'arte tecnologico intendo che gli attuali DBMS gli attuali meccanismi per la gestione dei dati soddisfano moltissime delle esigenze di trattamento dati che noi abbiamo all'interno di un istituto di statistica è pur vero che ce ne sono alcune che invece richiedono delle soluzioni ad hoc però diciamo il rischio è che o vengano bypassate delle soluzioni esistenti semplicemente perché non si pensa che siano adeguate in realtà lo sono e quindi si sprechino energie laddove invece sarebbe possibile utilizzare delle soluzioni esistenti e immagino trattamento dei dati fatto con strumenti che non sono dedicati al trattamento dei dati questa è una possibilità oppure che addirittura si sviluppino in modo ad hoc delle cose che viceversa hanno una storia cioè pensare di sviluppare strumenti ad hoc per il trattamento dei dati dopo 40 anni di ricerca industriale anche e quindi diciamo siamo ad uno stato dell'arte dei DBMS che insomma penso che per il trattamento dei dati sia considerevole ecco siamo attenti alla deriva quindi da un lato ok per la specificità però dall'altro attenzione a sfruttare anche l'esistente e a non reinventare la ruota laddove non è necessario insomma salve volevo fare una domanda a Marco Scarnò dunque io assistito alla presentazione del software Adonsoft qualche anno due tre anni due anni fa Nicolai mi chiamo Pieri insegno statistica e sociologia o quella che una volta era sociologia adesso non so più che cosa sia dicevo ho visto questo software me ne sono occupato pochissimo perché mea culpa non ho avuto veramente molto tempo volevo però capire a questo punto come si diciamo che fine ha fatto cioè a che punto in questa ottica che hai descritto questo prodotto adesso come si va a collocare se viene sviluppato ulteriormente se in ottica in prospettiva andrà a fine questo store o che cosa ecco vuole avere un minimo di chiarificazione grazie il software è tuttora in sviluppo e in distribuzione tra l'altro la domanda che lei ha fatto avevo chiesta di farla alle mie colleghe che avrebbero dovuto fare un po' i vaghi dicendo ma quindi era tutto grazie l'idea che ho avuto sullo sviluppo del software ieri tra l'altro quando stavo qui è proprio quella di seguire questa cosa cioè di dire l'utente non ha bisogno secondo me almeno di un software onnicomprensivo proprio perché in realtà i software onnicomprensivi erano costruiti a tempi in cui non c'era internet adesso c'è internet dove tu puoi andare e prendere quello che ti serve a te in quel momento per cui la mia idea sul futuro è quella di dire prendiamo il software che c'è e spacchettiamolo in modo tale che gli utenti possano scaricarsi la procedura che gli serve e la procedura in realtà però sarà in questo modo molto più facilmente integrata da un punto di vista della sua usabilità faccio un esempio devo fare un grafico allora la procedura mi chiederà quali sono i dati in che formato leggi che tipo di grafico vuoi fare questo e via cioè tutto standardizzato nell'ottica di fornire un solo servizio all'utente che dal lato diciamo così del software vorrà dire spacchettarlo nei suoi componenti e poi renderlo disponibile in questo app store in questo stat store che poi possa essere incluso dentro quello che fa l'inster questo non lo so diciamo però la mia idea è un po' questa appunto l'idea che esistendo internet è inutile fornire una cosa complicatissima e completa quando poi in realtà all'utente di cose complete ne usa piccolissime parti specifiche se è un docente perché deve far vedere 4-5 tecniche non di più ma non perché non le sappia ma perché poi il tempo necessario di insegnamento è molto poco aspettando altre questioni vorrei intervenire un attimo su quello che diceva prima Monica io prima ho volutamente estremizzato nel senso che mi piaceva pensare che comunque le specificità di un ambiente statistico devono essere sempre comunque tenute in grande considerazione quando viene scelta la particolare soluzione informatica applicativa che tende a risolvere un problema specifico di questo mondo statistico ora questo non vuol dire che nell'ampio mondo delle rilevazioni statistiche che dalla raccolta dei dati vanno fino alla produzione di informazioni statistiche che vengono poi organizzate in data warehouse e quant'altro non ci sia spazio anche per un altro tipo di impostazione che ricalca di più invece logiche anche esterne ieri ho letto tra i vari poster che sono stati esposti in questa conferenza uno di grande interesse che riportava l'esperienza di sviluppo per la indagine dei prezzi che permette la raccolta di mi sembra di ricordare 500.000 quotazioni di prezzi mensili sul territorio in tempo reale sfruttando evidentemente la frontiera della tecnologia del software che in qualche modo poco a che vedere invece con con le specificità che magari vengono dopo nella fase di elaborazione e quindi java oracle e quant'altro vengono ottimalmente utilizzate in questa applicazione ecco rispetto a questo non è che insisto attenzione dovete utilizzare assolutamente un qualche cosa che invece contemplasse la specificità no lì si tratta di raccogliere in una logica molto più vicina a quella di altre situazioni gestionali aziendali e quant'altro delle quotazioni e poi riportarle all'interno di un database fare i controlli di validità e quant'altro e poi dopo parte la catena elaborativa quella si statistica e quella si bisogna stare estremamente attenti di utilizzare strumenti ad hoc non ad hoc nel senso che solo per quella indagine strumenti che ad hoc tengono conto del fatto che l'indagine statistica stiamo parlando questo è un primo elemento che mi premeva sottolineare l'altro elemento che vorrei forse in qualche modo riportare alla discussione è lo diceva anche lui prima che tipo di scatola vogliamo offrire per l'utilizzo per l'utente finale ma anche per quello interno perché lo statistico è tutto sommato un utente finale nel processo di produzione statistica di software che noi vorremmo mettere a disposizione che tipo di scatola vogliamo offrirgli una cosa come è ancora Adamsoft onnicomprensiva con interfaccia che con i menu a tendine permette di selezionare le varie funzioni offerte dallo strumento e poi queste funzioni determinano una catena procedurale che viene eseguita magari online davanti allo schermo si aspetta l'esito per analizzarlo eccetera eccetera oppure una soluzione che anche Marco ci si sta orientando che viceversa prevede quella di mettere a disposizione librerie strumenti singoli eccetera che è compito dello statistico prendere mettere insieme e poi eseguire in qualche modo indipendentemente dall'ambiente da cui ha preso i vari pezzi i vari blocchetti in modo quindi autonomo dall'ambiente che ha originato che ha messo a disposizione gli strumenti qui c'è un dibattito evidentemente c'è un dibattito in corso secondo me in questo occorre tenere presente la fascia di utenza a cui questi strumenti vengono indirizzati ancora sempre ricollegandomi alla fascia di utenza un altro degli elementi che indica Marco era ma dobbiamo guidare nell'applicazione di tecniche avanzate di analisi di dati analisi di componenti principali cluster analysis quant'altro l'utente nel processo di applicazione di queste tecniche ai dati per essere in qualche modo sicuri che questa applicazione sia corretta io ho lanciato questo messaggio prima di questa cora per esempio allo R user group dicendo vorremmo discutere anche di queste cose la reazione che ho avuto da questo specifico ambiente di utenti di software molto avanzati con grandi esperienze è stato ma non se ne parla proprio cioè noi non vogliamo essere guidati nell'applicazione di tecniche che conosciamo perfettamente noi vogliamo una libreria ce la installiamo e la utilizziamo essendo perfettamente in grado di comprendere sia le modalità di applicazione sia i risultati da interpretare una volta applicata questa tecnica ecco c'è tutto un mondo però tra questa situazione di utenti esperti che tra l'altro anche sviluppano non sono solo utenti e invece chi si affaccia non dico per la prima volta ma comunque non da utente esperto espertissimo ha la possibilità di utilizzare queste tecniche e qui mi raggancio anche però poi la smetto perché voglio dare spazio ancora alla discussione alla presentazione che c'è stata ieri di Data Explorer non so chi l'ha vista però quello strumento che permette partendo dal Data Warehouse e il punto stat che l'istituto mette a disposizione di graficamente analizzare i fenomeni che sono a un primo livello offerti in forma tabulare all'utente e però con questo strumento ulteriore permettono alla fine una estrazione di conoscenza che poi è l'obiettivo fondamentale di questi strumenti molto maggiore che quella legata alla contemplazione di tabelle una via l'altra quando invece con altri strumenti c'è la possibilità anche dinamicamente di verificare l'evoluzione dei fenomeni nel tempo da territorio a territorio e quant'altro ecco c'è anche questo elemento da tenere in conto quello di nella fase di diffusione delle informazioni statistiche considerando che non tutti gli utenti sono esperti per quegli esperti si scaricano le tavole che hanno in qualche modo individuato come di interesse nel loro ambiente e poi ci applicano quello che vogliono strumenti di analisi grafica o meno a quello che hanno scaricato ma pensiamo a tutti gli altri che viceversa il valore aggiunto della disponibilità di questi strumenti in linea garantisce ripeto una comprensione molto migliore dei fenomeni di interesse ecco tutti questi elementi secondo me possono essere spunto ulteriore di riflessione per non parlare poi del discorso delle interfacce ecco su questo se si vuole intervenire le interfacce degli strumenti generalizzati che mettiamo a disposizione agli statistici e non statistici per i processi di produzione sono Antonino Virgilito Istat mi occupo di sviluppo software e sono stato tra altre cose il responsabile informatico del progetto che ha citato Giulio quello sul nuovo sistema supporto della rilevazione dei prezzi del consumo tra l'altro ringrazio Giulio per aver citato insomma il sistema che sta lì nascosto nel posterino dell'angolo e mi ricollego a questa esperienza e a quanto diceva Giulio su discorsi relativi all'utenza per fare una serie di considerazioni sparse ecco sulla base delle mie esperienze rispetto a quello che si è detto quel sistema che abbiamo costruito per i prezzi del consumo così come molti altri sistemi che ci vengono chiesti noi nel nostro servizio facciamo uno sviluppo su richiesta rispetto alle esigenze delle direzioni di produzione e quindi ci ritroviamo spesso a fare dei sistemi che sono sistemi ad hoc quindi l'utenza in questo caso l'utenza finale è un'utenza dei ricercatori statistici di indagine quindi che sono responsabili di una certa indagine tipicamente ci chiede delle cose che non sono diciamo assemblate su degli strumenti ma proprio dei sistemi specifici dove loro vogliono il bottone in un certo modo il grafico in un certo modo la tabella in un certo modo quindi cose assolutamente non non riusabili e molto spesso quindi nell'andare a fare della ricerca per vedere quali sono gli strumenti più adatti io vedo ecco che la tecnologia non manca diciamo l'informatica in termini di software di software a supporto delle varie fasi diciamo non c'è bisogno di nuovo sviluppo c'è bisogno di uno sviluppo mirato in termini di ecco integrazione di questi strumenti in modo da fornire a chi poi va a fare le statistiche un qualcosa che sia il più fluido possibile in termini di utilizzo quotidiano perché poi è di quello che stiamo parlando ecco il punto questo mi ricollego a quanto diceva Giulio rispetto all'utenza è che molto spesso non non c'è una cioè ci sarebbe bisogno di più flessibilità lato utente nell'accettare un qualcosa che non deve essere visto come un pacchetto che si va a comprare e che ti fa l'indagine ma come un insieme di strumenti di cui l'utente statistico deve essere padrone e quindi questo richiede chiaramente un investimento che devo dire spesso non diciamo vedo qualche resistenza a fare il discorso si ricollega anche al fatto all'utilizzo di strumenti open source cioè l'open source si è bello perché è gratis e il discorso finisce qua è gratis ok però c'è un costo da sostenere per acquisire la conoscenza di questi strumenti sia dal lato di chi sviluppa di chi quindi può impostare delle personalizzazioni perché non esiste il caso in cui uno prende fa partire il software e quello funziona tra virgolette per quello che deve fare chiaramente c'è bisogno di un investimento anche dal lato dell'utilizzatore quindi secondo me il discorso andrebbe integrato con una visione che preveda uno spostamento della responsabilità diciamo un alleggerimento della responsabilità da parte dello sviluppo rispetto a quindi una presa di responsabilità anche da parte dell'utente statistico finale tra l'altro vedo cercando nella platea dei colleghi che si occupano di indagini quindi statistici di indagini non so se c'è qualcuno mi piacerebbe anche sentire il suo parere perché appunto è a questa tipologia di utenti che noi come sviluppatori ci rapportiamo principalmente e qui è secondo me importante chiedere uno scarto di divisione Salve sono Manuela Murgia volevo rispondere un po' a quanto aveva detto Antonio dunque io non credo che lo sforzo debba essere fatto solo da parte dell'utente o anche io credo che quello che bisognerebbe fare in Istat come produttori di software sia quello lo dicevamo in una discussione prima di venire qua di integrare sempre di più la figura dello statistico con quella dell'informatico e quella di fornire alla fine dei prodotti generalizzati basati quindi anche su tecnologie open source che poi consentano all'utente finale di trovare la sua soluzione e io penso per esempio dunque noi lavoriamo in un settore in cui si è vero vengono anche da noi unità di produzione per chiedere lo sviluppo di un questionario per la loro indagine che sia rivolta a famiglie principalmente a famiglie ma può essere rivolta anche a imprese quello che facciamo noi non è implementare una soluzione ad hoc è offrire un panorama di soluzioni che possano andare bene alle loro esigenze e all'interno di questo panorama è poi l'utente che sceglie questo perché perché la nostra unità è già un ibrido la nostra unità dove lavoriamo è formata da statistici e da informatici quindi io credo che lo sforzo che noi come Istat che noi come produttori di software statistico dobbiamo fare è proprio quello di creare strumenti generalizzati e guidare poi l'utente finale nella scelta dello strumento migliore e più attinente alle proprie esigenze Allora Marcello Dorazio Istat statistico ma sviluppatore di software in R nel tempo libero allora un paio di diciamo reazioni rapide a quello che ha posto Giulio e anche Marco dunque sicuramente io il mio parere è che il software statistico moderno vada verso questa famosa spacchettizzazione cioè non più l'ambiente unico ma tanti pacchetti che poi uno utilizza e questo è tanto più vero quanto più il processo di produzione delle statistiche e anche le analisi che poi vanno a seguire diventano sempre più complesse però è vero in parte perché personalmente diciamo quello di cui mi sono accorto è che nel momento in cui si va verso la spacchettizzazione dei vari pezzi bisogna avere comunque un linguaggio comune cioè i dati devono passare da una parte all'altra e devono essere riconoscibili e non è solo una questione del file piatto in cui ci sono i numeri perché come dicevamo prima se vogliamo un attimo orientare l'utente anche poi nella guida di possibili analisi dobbiamo poi fornire loro anche una serie di strumenti e quindi informazioni ausiliarie che non necessariamente sono metadati e questo secondo me in questa fase è sicuramente diciamo probabilmente la cosa che richiede è lo sforzo maggiore perché io mi rendo conto che il paradosso faccio un esempio già la definizione delle variabili nel SAS rispetto a quella che può essere R non è così banale perché in R io posso gestire molto meglio le variabili categoriali rispetto al SAS che le gestisce in maniera alfanumerica ma questo significa che tutte le volte che io ho un passaggio di un file piatto devo necessariamente perdere molto più tempo per definire meglio tutte le varie variabili quindi questo discorso della spacchettizzazione di fatto è in atto però quello a cui si assiste ad esempio all'interno della comunità R è di avere tanti pacchetti in cui però i dati sono tutti quanti su un supporto che è il supporto tipico di R che non è poi necessariamente il file piatto ma abbiamo anche delle strutture dati un po' più complesse per ciò che riguarda poi mi aggancio anche alla parte relativa guidare l'utente finale nelle analisi questo non è assolutamente banale perché il problema è almeno dal mio punto di vista che è tanto più complesso il processo di produzione che in genere sta a monte di quei dati che noi andiamo a fornire nella maggior parte dei casi tanto più complesso può essere andare poi a produrre dei dati e nella mia esperienza insomma utilizzare dei dati di un'indagine campionaria che non abbia un campione casuale semplice a monte ma un campione più complesso per produrre semplicemente dei grafici può non essere così banale anche semplicemente a livello di scatterplot queste sono informazioni che sicuramente noi possiamo veicolare attraverso delle informazioni aggiuntive legate al file il disegno di campionamento cose che ad esempio in R in alcuni package è già possibile quindi guidano l'utente nelle analisi finali quindi sotto alcuni punti di vista alcune cose sono fattibili mi rendo però conto almeno che su processi di produzione molto complessi spesso non siamo in grado allo stato attuale delle cose di fornire una guida all'utente negli analisi e in ogni caso per quanto si possa fornire una guida all'utente sugli analisi rimane sempre poi il problema che una volta ottenuti i risultati l'interpretazione potrebbe comunque non essere quella giusta ma qui a quel punto diciamo chi ha fatto le analisi si assume la responsabilità di quello che è analizzato diciamo non credo che possiamo dare delle conclusioni al dibattito che c'è stato mi sento di dirne una sola sinceramente credo che viviamo una fase interessantissima di evoluzione degli strumenti che in quanto statistici possiamo dobbiamo utilizzare all'interno dei processi e di produzione e di messa a disposizione dell'informazione statistica e di analisi di questa informazione ripeto c'è una dinamica che nelle fasi precedenti che pure ho seguito non era neanche lontanamente immaginabile questa dinamica fa sì che non dipendiamo o dipendiamo molto meno da decisori esterni che producono software e magari ce lo offrono come possibile soluzione ma abbiamo riportato all'interno della comunità degli statistici la possibilità di decidere in autonomia che tipo di software ci serve e le modalità ottimali per ottenerlo luci e ombre in questo processo perché per carità questa dinamica che tra l'altro è uno degli elementi più importanti resi possibili dal movimento open source e questo va sempre detto però magari soffre dei limiti di questo stesso movimento diciamolo è un po' caotico è difficile districarsi all'interno dell'offerta open source e quant'altro però è un elemento estremamente arricchente è un elemento che dobbiamo sempre tenere presente ed è soprattutto un qualche cosa che ci deve far riflettere ogni volta che prendiamo delle decisioni è bene cercare di capire qual è l'offerta disponibile e non gettarsi a testa bassa chiedendo di utilizzare quel prodotto piuttosto di quell'altro con questo tipo di approccio piuttosto che quell'altro ecco la fase di ricognizione e analisi dell'esistente e magari di sollecitazione di sviluppi rispetto all'esistente è fondamentale abbiamo la possibilità lo ripeto ancora una volta di proseguire questa discussione all'interno dello start camp che comincia alle 14 girato l'angolo esattamente nello spazio qui a fianco e a questo punto cederei il campo anzi la gora a quella successiva a noi ringrazio tutti i partecipanti e a presto